Ciao a tutti i tifosi nero azzurri, oggi tocca a me farvi ascoltare la mia playlist preferita, quindi ora vi faccio sentire dalla 10 alla 5. Mi ha fatto cascare pure il microfono Dodo, cioè... Non trovo la 5, aspetta che devo fare, spero vi sia piaciuto, come si dice? 3, 2, 1... La numero... tolgo! Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.ito, chiama all'199-100-200, prova Interchannel e poi scegli.